Salto riuscito! Ora è il vostro momento di brillare! L'hai detto, fratello! Buona fortuna laggiù! Squadro, il vittore è attivo! Tutti voi, fantastici piloti! Dovete proteggerlo dalla flotta Remnant! Pronti o no, muovetevi! Rilevo tracce del nemico in arrivo! Non sono in tanti, ma non montatevi la testa! Ecco la prima ondata, ragazzi! Carino quel rodeo! Ora abbassate quel Titan nemico! Non mi ha spiegato! E' stato riuscito! Arriva da qui! Arriva da qui! Non lo fa! Non lo fa! Scudo inietitore riattivato. Scudo inietitore sono sotto attacco. Dateci un taglio. Scudo inietitore di nuovo al cento per cento. Scudo inietitore di nuovo al cento per cento. Spendulere ogni uno. Scudo inietitore all'interfitto. Scudo inietitore di nuovo al cento. Sì! 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 Continuare! Sì! Sì! Si! Un po' basta! Non possiamo ritardare qui! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Squadra, c'è un'altra ondata in arrivo. Preparatevi a ricambiare il saluto. Può ucciderli. Vedremo cosa succede. Nucleosiamma pronto. Nucleosiamma... I luoghi si abbassano. Taitano è reale. Tutto chieditore riattivato. Nucleosiamma attivato. Nucleosiamma attivato. Parità intermallattacco. Pio metattica. Autore segnato. Taitano nemico distrutto. Siamo in minoranza due a uno. Nucleosiamma pronto. Nucleosiamma attivato. Taitano nemico eliminato. Taitano nemico a terra. Taitano nemico attivato. Taitano nemico attacco a terzaio. Pilota nemico si è lanciato. Nucleosiamma attivato. Nucleosiamma attivato. Lavoro eccezionale. Non credi, Davies? Davies? È rimasto senza parole. Cercate droni di occultamento. Nascondono le unica sotto di esso. Credi tenere gli occhi aperti? Aspetta. Sono occultati. Sembra che siano tutti pronti ad andare. Fammi sapere quando sei pronto. Nucleosiamma pronto. Fate attenzione. Arriva una nuova ondata. Fate attenzione. Non ci ha detto io, Davies. Doppio consiglio. Nucleosiamma attivato. Taitano nemico eliminato. Nucleosiamma attivato. Nucleosiamma attivato. Nucleosiamma attivato. Taitano nemico distrutto. Nucleosiamma attivato. No da, siamo in ignoranza. Nucleosiamma attivato. Nucleosiamma attivato. Nucleosiamma attivato. Nucleosiamma attivato. Nucleo fiamma pronto Avvistati Titan Ark Orsi Tenete lì lontani dal viettore Non fate di eliminare gli scudi Attenzione Tace muscula avanzata Titan nemico eliminato Nucleo fiamma attivato Titan nemico distrutto Lo scudo iniettore è sotto a stacco Proteggetelo Attenzione Pari Titan all'attacco Titan nemico attuato Iniettore di nuovo al 100% Titan nemico eliminato Attenzione Lo scappo sta subendo danni eccessivi Titan nemico a terra Pilota Sei il unico rimasto vivo della tua squadra Non preoccuparti Arrivano i rinforzi Resisti Nucleo fiamma pronto Titan nemico distrutto Buone notizie squadra Potete fare meglio di così Davvero L'editore non ha subito alcun danno Lavoro fantastico Sembra che stiano inviando Subetti volanti Sono veloci Nucleo fiamma pronto Un'altra ondata Prendiamoli Nucleo fiamma pronto Titan atomici in arrivo Ascoltate squadra Gli scudi viettitori sono sotto attacco Dateci un taglio Gli scudi viettitori sono di nuovo attivi Proteggetelo inizio all'attacco Nucleo fiamma attivato Tendo minaccia aumentato Tanto che viettitori Nucleo fiamma attivato Titan nemico distrutto Nucleo fiamma attivato Nucleo fiamma attivato Titan nemico attivato Titan nemico attivato Titan nemico attivato Nucleo fiamma attivato Nucleo fiamma attivato Titan nemico attivato Titan nemico attivato Titan nemico attivato Tanto che viettitori sono inizio all'attacco Tanto che viettitori sono sotto attacco Nucleo fiamma attivato. Scudo mietitore riattivato. Ulti Titanarch diretti al mietitore. Ammatteranno gli scudi, ce li lasciate avvicinare. Nucleo fiamma pronto. Scudo mietitore in ricarica. Non permettete alla flotta Remnant di danneggiarlo. Scudi si abbassano. Titan nemico eliminato. Nucleo fiamma pronto. Titan nemico distrutto. Lavoro eccezionale, non credi Davis? Davis? È rimasto senza parole. Titan atomici e droni di occultamento in arrivo. Nessun problema. Sono solo Titan occultati che arrivano e scoppiano uccidendo chiunque sia intorno. Buona fortuna. Nucleo fiamma pronto. Nucleo fiamma pronto. Nucleo fiamma pronto. Ondata finale, piloti! Resistete! Nucleo fiamma pronto! Taitana, troveci nella vostra direzione, eliminateli! Pari Taitan lavazzato! Nucleo fiamma attivato! Taitan nemico a terra! Nucleo fiamma attivato! 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 Taitan nemico distrutto! Inminoranza 2-1! Taitan nemico distrutto! Squadra, proteggete il meditore mentre lo tutto si ricatta! Gli escudini editori non possono subire altri danni! Proteggetelo! Gli escudini editori stanno per cedere! Proteggeteli! Gli escudini editori sanno per cedere! Alta nemico a terra. Alta nemico a terra. Alta nemico a terra. I scudi mietitore sono di nuovo attivi. Edros, il Titan del pilota. Il vostro Titan è tutti pronti. Prepararsi a Titanfall. Gli scudi si abbassano Titan alleato attacca bersaglio Titan nemico distrutto Volte Titan nemico all'attacco L'unititore riattivato Titan nemico eliminato Titan alleato attacca bersaglio Nucleo fiamma tolto Nucleo fiamma attivato Titan nemico eliminato Sembra che la tua torreta sia a terra Vai lì e riparala Titan nemico a terra Nucleo fiamma pronto La torreta è di nuovo attiva Titan nemico distrutto Pilota alleato attacca bersaglio Titan nemico eliminato Sonda siamo in minoranza 2 a 1 Titan nemico a terra L'unititore riattivato Amalgona attacca Nucleo fiamma attivato Nucleo fiamma attivato Nucleo fiamma attivato Titan nemico attivato Titan nemico a terra Titan nemico a terra Aitan nemico distrutto. Attenzione, vari Tantan all'attacco. Aitan nemico a terra. Aitan nemico distrutto. Sembra che la tua torretta sia a terra. Vai lì e riparala. Nucleo fiamma pronto. Atenzione, vari Tantan all'attacco. Nucleo fiamma attivato. Aitan nemico eliminato. Aitan nemico a terra. Aitan alleato attacca bersaglio. Aitan nemico eliminato. Nucleo fiamma attivato. Aitan nemico distrutto. Missione completata. Ottimo lavoro. Evviva! Così lavorano i 6-4. Non siamo più i 6-4, Davis. Così lavora l'ultima spiaggia. 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 Grazie.